I quartieri satelliti della città trasformati in vere e proprie discariche con la spazzatura abbandonata dai non residenti provenienti dai paesi vicini dove in vigore la differenziata risultato rischio igienico sanitario complice anche le temperature alte ma anche i ritardi nello svuotamento dei cassonetti. Un'estate di segnalazione e proteste di cittadini preoccupati indignati e di consiglieri infuriati e così in attesa che anche su tutto il territorio urbano di Agrigento decolle il servizio porta a porta l'amministrazione Firetto ha deciso di correre ai ripari per affronteggiare l'importazione di cumuli di spazzatura dalle città limitrofe. Il sindaco ha firmato un'ordinanza speciale che vieta ai non residenti e agli operatori economici produttivi che non hanno l'attività di Agrigento di conferire nei cassonetti e abbandonarli lungo il territorio comunale. Per i trasgressori la sanzione prevista va da 25 a 500 euro. Da oggi dunque al via controlli rafforzati in azione i vigili urbani. Ci saranno tre pattuglie distinte con macchine non identificabili e personale in borghese. Firetto sta anche lavorando per l'acquisto di 20 telecamere da piazzare a presidio dei cosiddetti luoghi sensibili e ieri ha pure chiesto formalmente la convocazione di un tavolo tecnico al prefetto Diomede d'Esta Indre, comune di Aragona, Favara, Portempedocle e Raffadali. E intanto in tema di rifiuti la SRR Agrigento Est ha da oggi un nuovo presidente. Si tratta dell'assessore al comune di Raffadali Enrico Vella. Del consiglio di amministrazione faranno parte l'assessore comunale di Grotte Giussi Cimino che ricoprerà il ruolo di vicepresidente e il vice sindaco di Ravanusa Gaetano Carmina con il ruolo di componente. Grazie. 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 Grazie.